E visto che nessuno ci vuole ricevere, ci mettiamo in marcia e decidiamo cosa fare, tutti insieme. Noi se ci vogliono chiamare ci chiameranno e siamo disponibili con le nostre delegazioni ad ascoltare e a farci ascoltare. Questo è un senso minimo di democrazia, ma la democrazia in questo Paese si vede non fa più parte. Quindi glielo faremo capire con i nostri movimenti. Ora ci rimettiamo in marcia tutti insieme e se qualcuno pensa di prenderci per stanchezza, ancora una volta gli diciamo che non ha capito un cazzo. Tutti insieme, dai! Andate a prendere i soldi, nei lavoratori e nei cittadini. Andate a prendere i soldi, questa rogancia!